5 le notizie del le notizie del TG ora blitz della dia qua faccio veloce veloce e basta di nuovo per la sera l'ultima volta Mauro Madegatta si è gestito la richiesta di denaro si è recato dai carabinieri della compagnia di Giuliano e ha denunciato tutto, dopo una serie di indagini il suo strozzino è finito in galera i militari dell'arma hanno infatti arrestato un uomo di 62 anni di melito l'uomo a fronte di un prestito di 22 mila euro è riuscito ad ottenere da un commerciante di Giuliano la restituzione a tassi usurari di ben 44 mila euro, la vittima originaria che ha la sua attività a Mugnano era arrivata allo stremo, l'uomo che si è rivolto allo strozzino poiché era in gravissima difficoltà ha consegnato i soldi fino a quando ha potuto, poi è arrivata la denuncia e l'intervento dei carabinieri due soggetti già noti alle forze dell'ordine sono stati arrestati a Napoli in flagranza di furto e in appartamento dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Vomero, si tratta di un 34enne e di un 38enne entrambi di Miano, i militari dell'arma sono intervenuti d'urgenza in via Emilio Scaglione a seguito di segnalazione a 112 che avvertiva della presenza di persone sospette i due, intuito l'arrivo dei militari si sono dati alla fuga saltando sul tetto di una palazzina, subito i rincorsi sono stati raggiunti e bloccati prima che riuscissero a calarsi dal tetto dei palazzi vicini. Per essere pronti all'emergenza in caso di terremoto della cruce russa della protezione civile e militari dell'esercito italiano si sono riuniti in piazza dell'Ico a Pozzuoli per la terza edizione dell'esercitazione congiunta Efesto 2017 lo scenario è quello di un terremoto a largo della costa del golfo di Pozzuoli a una profondità di circa 8 km che potrebbe scatenare anche un maremoto con onde alte 4-3 metri. Un evento del genere renderebbe necessaria l'evacuazione medica degli abitanti a rischio e così grazie all'esercitazione promossa e organizzata dal comune di Pozzuoli e dall'Accademia Aeronautica con la collaborazione del 118 del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa italiana della protezione civile con l'alto patrocino della presidenza del Consiglio dei ministri qua faccio veloce veloce e basta è di circa 4 milioni e 400 euro il costo degli inter... 400 mila euro scusate il costo degli interventi di manutenzione straordinaria stradale affidati dalla città metropolitana di Napoli con la firma del relativo contratto alla ditta che ha vinto la gara d'appalto si tratta di interventi che interesseranno numerosi comuni dell'area orientale della città metropolitana per complessivi 350 chilometri di strade provinciali in città metropolitana affidati lavori stradali per 4,4 milioni di euro il primo gruppo interesserà i comuni di Nola, Saviano, Palma Campania Ottaviano, Somma Vesuviana qua faccio veloce veloce e basta così Fino e Visciano si allontana ancora la data di apertura dello storico parco dei divertimenti di Napoli e dell'Andia l'inaugurazione prevista inizialmente per il 31 maggio secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere ulteriormente posticipata a mancare entrerebbe tra le regioni più decorate d'Italia risulterebbe come per il 2016 la prima del centro-sud lo scorso anno furono posizionate sulle spiagge ben 14 bandiere grazie all'ingresso di San Mauro Cilento soltanto l'esclusione a sorpresa di Sapri cancellò la speranza di ottenere un nuovo record qua faccio veloce veloce e basta venduti per l'incontro di calcio a Napoli-Cagliari in programma al San Paolo sabato alle ore 18 lo stadio anche grazie il ticket a costo basso è pronto a riempirsi a riferirlo all'edizione napoletana di Repubblica di nuovo amici del Mimito di nostra regione per la giornata di domani venerdì 8 martedì 2019 questa è chiama